La frase si trova in un testo del Concilio ed è splendida per dottrina e concisione. Dice che all'annuncio dell'angelo Maria Vergine accolse nel cuore e nel corpo il verbo di Dio. Nel cuore e nel corpo. Fu cioè discepola e madre del verbo. Discepola perché si mise in ascolto della parola e la conservò per sempre nel cuore. Madre perché offrì il suo grembo alla parola e la custodì per nove mesi nello scrigno del corpo. Sant'Agostino osa dire che Maria fu più grande per aver accolto la parola nel cuore che per averla accolta nel grembo. Forse per capire fino in fondo la bellezza di questa verità il vocabolario non basta. Bisogna ricorrere alle espressioni visive e allora non c'è di meglio che rifarsi a una celebre icona orientale che raffigura Maria col divin figlio Gesù iscritto sul petto. È indicata come la Madonna del segno ma potrebbe essere chiamata la Madonna dell'accoglienza perché con gli avambracci levati in alto in atteggiamento di offertorio o di resa essa appare il simbolo vivo della più gratuita ospitalità. Accolse nel cuore. Fece largo cioè nei suoi pensieri ai pensieri di Dio ma non si sentì per questo ridotta al silenzio. Offrì volentieri il terreno vergine del suo spirito alla germinazione del verbo ma non si considerò espropriata di nulla. Gli cedette con gioia il suolo più inviolabile della sua vita interiore ma senza dover ridurre gli spazi della sua libertà. Diede stabile alloggio al Signore nelle stanze più segrete della sua anima ma non ne sentì la presenza come violazione di domicilio. Accolse nel corpo. Sentì cioè il peso fisico di un altro essere che prendeva dimora nel suo grembo di madre. Adattò quindi i suoi ritmi a quelli dell'ospite. Modificò le sue abitudini in funzione di un compito che non le alleggeriva certo la vita. Consacrò i suoi giorni alla gestazione di una creatura che non le avrebbe risparmiato preoccupazioni e fastidi. E' poiché il frutto benedetto del suo seno era il verbo di Dio che si incarnava per la salvezza dell'umanità. Capì di aver contratto con tutti i figli di Eva un debito di accoglienza che avrebbe pagato con cambiali di lacrime. Accolse nel cuore e nel corpo il verbo di Dio. Quell'ospitalità fondamentale la dice lunga sullo stile di Maria delle cui mille altre accoglienze il Vangelo non parla ma che non c'è difficile intuire. Nessuno fu mai respinto da lei e tutti trovarono riparo sotto la sua ombra. Dalle vicine di casa alle antiche compagne di Nazareth, dai parenti di Giuseppe agli amici di gioventù di suo figlio, dai poveri della contrada ai pellegrini di passaggio, da Pietro in lacrime dopo il tradimento a Giuda che forse quella notte non riuscì a trovarla in casa. Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la parola nell'intimo del cuore, a capire cioè come hai saputo fare tu le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa la porta per intimarci lo sfratto ma per riempire di luce la nostra solitudine. Non entra in casa per metterci le manette ma per restituirci il gusto della vera libertà. Lo sappiamo, è la paura del nuovo a renderci spesso in ospitali nei confronti del Signore che viene. I cambiamenti ci danno fastidio e siccome Lui scombina sempre i nostri pensieri, mette in discussione i nostri programmi e manda in crisi le nostre certezze, ogni volta che sentiamo i Suoi passi evitiamo di incontrarlo, nascondendoci dietro la siepe come Adamo tra gli alberi dell'Eden. Facci comprendere che se Dio ci guasta i progetti non ci rovina la festa, se disturba i nostri sogni non ci toglie la pace. E una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il nostro corpo brillerà della sua luce. Santa Maria, donna accogliente, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli. Sperimentiamo tempi difficili in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa vivere tra le porte blindate e sistemi di sicurezza. Non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Vediamo agguati dappertutto. Il sospetto è divenuto organico nei rapporti col prossimo. Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento sugli istinti di solidarietà che pure ci portiamo dentro. E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti. Disperdi, ti preghiamo, le nostre diffidenze. Facci uscire dalla trincea degli egoismi corporativi. Sfascia le cinture delle leghe. Allenta le nostre ermetiche chiusure nei confronti di chi è diverso da noi. Abbatti le nostre frontiere, le frontiere culturali prima di quelle geografiche. Queste ultime cedono ormai sotto l'urto dei popoli altri, ma le prime restano tenacemente impermeabili. Visto allora che siamo costretti ad accogliere gli stranieri nel corpo della nostra terra, aiutaci perché possiamo accoglierli anche nel cuore della nostra civiltà. Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra morte la quiete fiduciosa di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta sereno. Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti nel cuore per tutta la vita. Compi su di noi i rituali delle ultime purificazioni e portaci finalmente sulle tue braccia davanti all'Eterno, perché solo se saremo presentati da te, sacramento della tenerezza, potremo trovare pietà.